buongiorno a tutti quanti, allora riaccomi ritornata con un nuovo video questo video fondamentalmente tratterà di tutti i miei accessori apple voglio assolutamente partire dal mio apple watch se che è questo qui ok, adesso forse non so quanto si veda ma non preoccupatevi perché metterò tutti gli screenshot possibili e inimmaginabili assolutamente comunque sia questo qui è il mio apple watch nuovo io partivo, se mi seguite da tantissimo tempo, da un apple watch di serie 3 se non mi sbaglio forse uno dei primi, vi parlo del Pencil 2017, una cosa del genere e l'ho sempre tenuto finché appunto non ho ricevuto questo per Natale da parte di Marco per il lavoro che faccio, quindi io sto comunque in un poliambulatorio, per me l'orologio è essenziale cioè non posso non avere un orologio e l'uso che ne faccio, soprattutto a lavoro, è proprio super funzionale questo qui è appunto l'orologio apple watch se in oro rosa con la cinturina blu nevi vi farò anche una sorta di close up, ok? dopo vi faccio vedere all'interno proprio come l'ho strutturato perché rispetto al mio vecchio apple watch, quello di serie 3, da 38 mm sono cambiate anche un po' le funzionalità dentro, diciamo così ho proprio anche più spazio per poter scaricare applicazioni, eccetera questo qui è il 40 mm, perché se non mi sbaglio apple non li fa più da 38 mm l'uso che ne faccio a lavoro fondamentalmente è vedere l'orologio, impostare sveglie e impostare cronometri quando per esempio ho un breath test lattosio, un breath test helicobacter pylori tendenzialmente o una curva glicemica piuttosto che una curva insulinemica per me è importantissimo, perché ci sono determinati tempi che io devo rispettare per poter appunto richiamare indietro il paziente o meno tendenzialmente chiedo anche a loro, perché la maggior parte di quelli che becco a cui faccio questi esami hanno anche l'ora l'apple watch quindi sincronizziamo proprio il cronometro il... non il cronometro, il timer quindi questo è l'uso che io ne faccio oppure esempio devo andare a prendere un campione che è refrigerato e me lo devo ricordare prima che passi il fattorino per me è importantissima questa cosa mi metto la sveglia a 8 ore perché so che prima di andare via devo andare a controllare il frigorifero esempio è un esempio banalissimo però mi è davvero utile altra cosa che faccio è l'uso del timer ovviamente per quando sono a casa ovvero la pasta quando si cucina tendenzialmente anche se noi comunque abbiamo Alexa che in questo momento si è illuminata vabbè tralasciamo questa cosa però appunto questo è l'uso principale che io ne faccio lo metto tutti i giorni la batteria mi dura praticamente un giorno ma come ogni apple watch perché anche quello mio precedente il serie 3 mi durava un giorno altra cosa mi sto un po' trasformando sul digitale a livello proprio di turni lavorativi di organizzazione anche magari ogni tanto utilizzo anche proprio l'agenda digitale quella lì sul telefono e ovviamente io vedo tutto traslato qua dentro per quanto riguarda l'allenamento io mi sono un po' fermata ma tendenzialmente lo utilizzo anche soprattutto anche per l'allenamento ok poi mi piace vedere per esempio quanti passi faccio giornalmente dal punto di vista proprio dell'allenamento chi si allena saprà benissimo che con l'apple watch si trova bene cioè è inutile dirlo ecco altra cosa molto utile magari io sto lavorando non posso sempre avere il cellulare a portata di mano ok magari ce l'ho proprio nella tasca e magari sono bardata perché sto facendo i tamponi esempio quando mi arriva una chiamata o quando mi arriva una notifica tendenzialmente la guardo direttamente dall'apple watch quindi per me questo è davvero importante se è urgente la chiamata rispondo ovviamente non rispondo dall'apple watch se soprattutto c'è gente insieme a me però rispondo dal telefono però questo è per me questa cosa è proprio fondamentale ma andiamo a vedere dentro come l'ho strutturato ok volevo farvi vedere proprio un close up dell'apple watch e purtroppo mi sono dovuta adeguare con la videocamera spero vivamente che si veda qualcosa fatto sta che il cinturino è quell'originale apple perché appunto Marco me l'ha regalato così i blu nevi e come potete vedere vabbè forse non si intravede ma io ho fatto mettere una sorta di pellicola sopra il sito, il brand comunque ve lo scrivo qua in sovraimpressione ed è un marchio dove io fondamentalmente ho sempre portato i dispositivi apple per poter mettere tipo il proteggischermo avanti e indietro soprattutto anche per il mio vecchio telefono tipo l'XR perché dietro era in vetro e niente quindi questo l'ho fatto mettere apposta lo stand di se non mi sbaglio si chiama mobile outfitters una cosa del genere e si trova tendenzialmente nei game stop all'interno dei centri commerciali per chi è di Milano io per esempio vado sempre al Bicocca Village al game stop del Bicocca Village e quindi ho fatto mettere il proteggischermo perché altrimenti nel giro di un mese me lo ritrovavo graffiato e poi ho preso su Amazon questo qui che è il proteggi appunto Apple Watch proprio dei bordini trasparenti l'ho preso trasparente per far sì che si vedesse il colore perché se lo prendevo magari nero o di un altro colpo potevo anche prenderlo rosa ma questo costava meno ho preso un pacco dove dentro ce ne sono tipo due o tre una cosa del genere anche questo ve lo metto nell'info box dentro la mia vetrina di Amazon come potete vedere questo qui è lo schermo io qua davanti ci tengo l'agenda dove ogni tanto mi capita di mettere degli eventi all'interno dell'agenda ovvero all'interno del telefono poi metto il cronometro che per me è super super importante vedete questi qui sono tutti i miei cronometri potete anche personalizzarli ci sono già quelli preimpostati super carina sta cosa poi qua metto tutta l'attività fisica il contapassi io stamattina sono ancora a casa ovviamente e quindi ancora non ho fatto praticamente nulla però è super utile perché appunto vi tiene monitorata la vostra attività che fate proprio durante l'arco della giornata a volte sto in piedi tipo 18 ore ma è una roba imbarazzante e qua tengo le sveglie che ogni tanto le sveglie mi servono e le metto sempre per lavoro questo 93% dovrebbe essere la batteria esattamente potete anche metterlo a basso consumo qualora avesse la batteria un po' scarichina e niente quindi questo qui è lo schermo mio principale che utilizzo tendenzialmente a lavoro ho altri schermi ovvero questa qui di Minnie che è super carina secondo me e qua ci sono le foto qua c'è il mio Memoji questa dovrei essere io tendenzialmente questa è una funzionalità nuova che io nel vecchio Apple Watch non avevo qua altre foto con Marco questo qui è proprio minimal anche se io la tengo perché mi piace esteticamente ma non la uso mai ma tendenzialmente io utilizzo sempre questo perché è proprio quello più funzionale ecco all'interno l'ho strutturato così perché volendo voi potete cambiare anche lo schermo vediamo se riesco a farlo ve lo vedere c'è questa griglia classica che io avevo nel mio vecchio Apple Watch però volendo potete anche strutturarla come elenco vedete scusate era passato il corriere quindi ho perso un attimo il filo del discorso stavo dicendo che appunto io utilizzo appunto questa modalità ovvero in elenco perché per me è veramente veramente super utile e come potete vedere vabbè le impostazioni sono proprio di default ok però vi voglio far vedere che io ho anche scaricato altre applicazioni ovvero andiamo su indietro ok allenamento questo qui ce l'ho con Apple appunto con l'abbonamento gratuito per i tre mesi utilizzo spessissimo la calcolatrice e il calendario ovviamente il cronometro la cosa positiva della fotocamera qui è che potete utilizzare l'Apple Watch come una sorta di telecomando per il vostro iPhone Google Maps ce l'ho ma non lo uso tantissimo devo essere sincera e leggo le mail ogni tanto i messaggi vabbè questo quando mi capita ok una cosa molto utile è per esempio Spotify Stockard che è questa applicazione dove io metto le carte della spesa ovvero la carta della copp dell'estelunga del gigante queste cose qua Super Shift è l'applicazione che io utilizzo per per i turni per il lavoro questa poi ve ne parlerò meglio perché qua ce l'ho che mi mette il promemoria però tendenzialmente la uso spessissimo sul cellulare niente insomma qua ci sono tutte le altre applicazioni ogni tanto utilizzo Walkie Talkie con Marco che è super carina questa cosa cioè magari quando siamo insomma in due posti diversi siamo tranquilli abbiamo entrambi il wifi funziona alla grande è una sorta appunto di Walkie Talkie cioè immaginatevi di parlare non ce la posso fare immaginatevi appunto di parlare di tenere premuto appunto il tastino giallo del Walkie Talkie se voi parlate e rilasciate arriva il messaggio all'altra persona comunque comunicate se scorrete dal basso verso l'alto potete vedere tutte queste varie funzionalità una cosa secondo me super utile è anche questa qui scusatemi continuano ad arrivarmi i messaggi la torcia ok che anche di questo avete varie varie opzioni spero che si si possa vedere qualcosa un'altra cosa carina vabbè è la modalità aerea per esempio se volete anzi potrei metterla adesso per così almeno evito che mi arrivano i messaggi ok questa è molto carina secondo me e poi c'è anche questa modalità ovvero della goccia dove se per esempio che ne so vi fate la doccia andate in piscina andate al mare eccetera permette appunto di proteggere il vostro iPhone quando lo immergete nell'acqua per rilasciare questa modalità perché ovviamente così si blocca non si schiaccia niente dovete girare la rotellina ok io questa la utilizzo ce l'avevo anche nell'altro ovviamente tengo sempre quasi sempre in modalità silenziosa personalmente ma perché se no tra questo mi suona il telefono è un casino queste sono un po' scelte che poi uno fa spero di avervi fatto vedere per bene che cosa c'è dentro appunto il mio Apple Watch SE e niente secondo me appunto questa è una sfiziosità in più io ho saputo diciamo trasformare questo Apple Watch da una sfiziosità da uno sfizio perché alla fine voglio dire sicuramente non è economico come orologio però è funzionale per il lavoro che faccio e questa in primis per me è la cosa proprio più più importante ecco altro accessorio Apple che volevo condividere con voi oltre appunto al mio Apple Watch erano le mie cuffiette ok voglio fare solamente una breve insomma una breve recensione se si può dire così ma non avere propria recensione delle mie cuffie allora queste qui sono le cuffie le prime praticamente niente queste qui appunto sono le mie Airpods di prima generazione che avevo preso scontate tra l'altro alla Lunieuro non le ho prese da Apple queste e devo dire che comunque sia mi trovo abbastanza bene nel senso che sono stata indecisa fino all'ultimo se prendermi di nuovo un altro paio di cuffie però poi ho detto ma cosa me ne faccio queste non le posso neanche vendere è vero che le potrei regalare i miei a mia mamma a mio papà però perché purtroppo per l'entrata del mio come si dice del mio orecchio ogni volta mi cadono mi cadono veramente sempre io quando vado a correre queste cuffiette le utilizzo con una fascetta così almeno anche se salto faccio eccetera non mi cadono anche soprattutto quando andavo in palestra facevo così e poi per esempio anche quando sono sullo scooter perché io lavoro in Centra Milano comunque sia almeno tre volte a settimana e con lo scooter tra le chiamate eccetera per fortuna ho il passamontagna che quindi mi blocca un po' la cuffietta anche se ogni tanto si stacca lo stesso dall'orecchio è una roba che io detesto e infatti ho visto le airpods anche quelle col gommino che secondo me per il mio tipo di orecchio sarebbero più utili però le avevo viste con il Black Friday scontatissime ma proprio scontate che mi sono anche un po' ventita di non aver preso però anche lì poi cosa me ne facevo di queste vabbè fa niente mi adego io queste le ho praticamente sempre 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 e la confezione insomma la cover ecco che voi vedete qua è una cover che avevo preso su Amazon un sacco di tempo fa anche di questo vi metto ovviamente il link nella vetrina di Amazon che troverete nell'info box passiamo al mio telefono del mio iPhone 13 Pro color sierra ho deciso di farvi la intro con appunto lo stesso telefono in questo momento io sto registrando in modalità cinematografica e devo dire che fra tutti i telefoni Apple ho visto anche l'iPhone 11 l'iPhone 12 però devo dire che il 13 cioè dalla serie 13 questo qui è per me in assoluto il migliore in questo momento soprattutto i miei ultimi video con la ring light che avete visto anche precedentemente li sto registrando con questo telefono ricapitolando io mi sono presa appena uscito insomma era fine settembre 2021 mi sono presa l'iPhone 13 Pro color sierra da 256 GB ci ho impiegato un sacco a prenderlo perché purtroppo non avendo fatto il preordine io lo volevo vedere anche proprio fisicamente come toccarlo insomma con mano quindi prima di acquistarlo sono andata comunque in un Apple Store l'ho visto perché per fortuna a fine settembre ti poteva ancora girare abbastanza in libertà diciamo così solo che una volta finito il preordine l'iPhone insomma ha lanciato la linea 13 dal 13 mini al 13 normale al 13 Pro e al Pro Max e dopo il preordine io l'ho visto sempre autostock vi giuro è stata un'impresa a prendere questo telefono non vi dico le peripezie che ho che ho trovato insomma in giro proprio era sempre autostock io andavo sul sito della Apple ed era sempre autostock un giorno mi ricordo ancora perché lavoravo in centro a Milano e l'ho visto era una spesa che io volevo fare già da tantissimo tempo quindi comunque avevo messo i soldi da parte perché questo telefono non viene poco ve lo dico già costa 1309 euro quello ha dato 256 gigabyte e quindi ho detto o lo prendo ora o non lo prendo più quindi l'ho acquistato online ho fatto il ritiro all'Apple Store insomma in centro a Milano in piazza Liberty per farci intendere per chi è di Milano io l'ho preso proprio lì ho fatto il pick up perché l'ho ordinato online quindi ce l'avevo già lì prenotato e sono andata a ritirarlo mi avevano detto tipo un orario subito dopo lavoro sono andata a ritirarlo e l'ho preso ci ha messo veramente due minuti ci ha messo di più ad arrivare in centro fondamentalmente come mai questo cambio di telefono ovvero io venivo da un iPhone XR che però non avevo neanche preso così tanto in là nel senso quel telefono se non mi sbaglio l'avevo preso tra la fine del 2017 e inizio 2018 una cosa del genere e avevo fatto la permuta del mio vecchio iPhone 6 fatto sta che sin dall'inizio l'iPhone XR l'ho preso ma perché era quello più economico che c'era in quel periodo io ancora studiavo e avevo fatto a metà con i miei genitori per quel telefono lì e nonostante tra la permuta del telefono e tutto l'avevo pagato sui circa 800 euro una cosa del genere devo dire che andando avanti Apple veramente vende i suoi telefoni a dei prezzi che secondo me sono veramente assurdi però devo dire che effettivamente questo telefono fa tutto ho deciso di cambiarlo perché purtroppo ho riscontrato vari problemi ma anche vari problemi sin dall'inizio con l'iPhone XR e infatti a distanza di neanche due mesi l'ho riportato indietro da Apple mi ricordo ancora e l'ho fatto cambiare perché non era possibile si bloccava continuamente anche se entravo su Safari insomma un disastro e in realtà ripeto non mi è mai piaciuto anche sia esteticamente ma anche a livello proprio di funzionalità l'iPhone XR però era quello economico ed era quello che mi potevo permettere in quel momento lo volevo nuovo e quindi alla fine ho fatto insomma ho fatto questa scelta sicuramente a livello di videocamera di qualità rispetto all'iPhone 6 c'era l'abisso ok che infatti io mi ricordo che ho sempre registrato anche i miei weekly vlog con l'iPhone XR quando ho visto questo qui perché prima di comprare questo telefono ho guardato una miriade di recensioni che voi non potete capire ma era da cioè agosto che guardavo anche tutte le varie ipotesi di come potesse essere il nuovo iPhone 13 e alla fine ho detto no vabbè basta ho deciso a settembre 2021 settembre ottobre quello che è quando esci in Italia io me lo voglio comprare ho scelto questo colore perché lo trovo favoloso io sono abbastanza innamorata del blu dell'azzurro cosa che in realtà è una passione che mi è cresciuta nel tempo perché io penso che tipo a livello proprio di anche della mia carnagione il blu non è che mi stia tanto bene 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 ci sono vari tipi di blu che mi stanno bene altri meno e tipo i pastelli mi piacciono perché penso che insomma mi stiano bene ma per esempio il blu elettrico no fatto sai che quando ho visto il colore Sierra che ho questo azzurrino pastello ho detto no vabbè basta questo deve essere il mio telefono poi sono stata catturata dall'estetica dell'iPhone 13 perché è diciamo tornato un po' come era in origine ovvero quadrato perché l'iPhone XR se voi avete presente il modello era tondo invece questo è proprio rettangolare quadratino richiama molto l'iPhone SE o l'iPhone 4S per farci intendere e quindi quando l'ho visto ho detto no vabbè questo deve essere assolutamente mio direi quindi di andare a vedere all'interno del mio telefono che cosa c'è Sully volevo farvi vedere che cosa c'è appunto all'interno del mio telefono e poi farvi vedere tutti i gadget che mi sono presa vorrei vedere proprio a livello funzionale come utilizzo insomma questo questo iPhone adesso c'è la possibilità di mettere i widget quindi fondamentalmente qui vedo quanto consumo di come si dice il tempo di utilizzo delle varie applicazioni quindi questa è la prima pagina questi qui anche questi sono widget che io ho messo le foto eccetera al massimo vi farò un video specifico su come creare questi widget ma è una cagata cioè nel senso potete anche andarlo a vedere voi autonomamente ho dovuto mettere le cose nella maniera più funzionale possibile quindi le cose principali calcolatrice mail apple store impostazioni ben visibili e le altre cose le ho anche ridotte tipo queste robe qui sono di lavoro sono i miei turni questa qui è l'applicazione che utilizzo principalmente per i turni che si chiama super shift con l'icona blu all'interno ci sono tutti i vari turni insomma e invece questa qui la utilizzo in uno dei miei insomma tre lavori che mi caricano qua i turni e poi li trasferisco nella mia applicazione personale per avere un quadro generale di tutto il mese in questa applicazione qui invece tengo robe di finanza cioè ovvero robe della banca robe della posta qua invece tengo sempre questo widget con questo mega giga orologio qua due citazioni che mi piacciono tantissimo e qui tengo tipo le varie applicazioni della salute tra anche l'applicazione quella lì dell'apple watch e poi tengo instagram le foto calendario questa qui è la mia mail pack legata a youtube e tutte le robe di youtube le note che sono fondamentali per me perché ci metto di tutte e di più qua le ore di sonno le varie batterie tra iphone piuttosto che l'apple watch e anche le cuffie quando sono collegate anche qui tengo le varie applicazioni principali quindi queste qui sono delle pagine che io mi sono creata tipo amazon iliad piuttosto che witty tv perché ci guardo amici amazon photo questa qui è un'applicazione del mio telefono le memo vocali tutte queste robe e poi qua c'è tutta la parte social raggruppata l'ho organizzata così per far sì che diventasse proprio funzionale e qua ovviamente c'è tutta la libreria di tutte le applicazioni anche proprio in ordine alfabetico come potete vedere io organizzo appunto le pagine così poi se ovviamente voglio un'applicazione proprio specifica ovvero devo andare su creatività dove qui ho tutte le varie applicazioni che utilizzo per modificare foto, video eccetera vado qua dentro perché tanto è tutto raggruppato una cosa che vi volevo far vedere è sicuramente scusatemi la luce pessima è sicuramente questa cover qua che è una cover che io ho preso su amazon vedete con anche il come si dice il proteggi videocamere e ha anche il magsafe questa è la cover che io utilizzo principalmente però ci tenevo a farvi vedere anche l'iphone senza niente che è così ok un'altra cosa io sopra qua sopra ho messo il proteggi schermo anti spy ovvero che se uno sta ai miei lati tendenzialmente non vede quello che faccio e l'ho preso anche questo su amazon mi ha costato una decina di euro e dentro ce ne sono tipo due o tre e l'ho messo insomma autonomamente invece dietro ho un proteggi schermo del marchio mobile outfitters anche questo è anti graffio anti tutto le telecamere non me le ha volute far coprire prima io mettevo dei vetrini che anche quelli li avevo trovati su amazon perché purtroppo questi sporgono un po' troppo ma alla fine optando per questa cover con questa mi trovo benissimo ci tenevo a farvi vedere il mio caricatore wireless del mio iphone fondamentalmente io questo lo carico così si attacca pure alla mia cover ok anche questo l'ho preso su amazon e questo è uno stand questo caricatore qui invece è originale della apple perché l'ho preso alla apple e con questo mi ci trovo veramente veramente super bene ok allora spero tantissimo che il video vi sia piaciuto spero tantissimo di avervi dato insomma un'infarinatura generale sia delle applicazioni che utilizzo maggiormente proprio del telefono in sé e anche magari di come l'ho strutturato poi secondo me ognuno lo struttura come cavolo gli pare perché è una cosa davvero molto 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 personale dopo il mio telefono passiamo all'ultimo mio accessorio di apple ovvero il mio macbook pro nuovo venivo da un vecchio macbook pro se non mi sbaglio era del 2014 3G14 non mi ricordo minimamente il modello ce l'ho ancora a Milano perché ce l'ho lì in realtà per bellezza perché non lo utilizza nessuno Marco per la laurea mi ha regalato appunto questo qui quello nuovo e è stato un regalo fondamentalmente inaspettato perché io vi giuro cioè ero quando l'ho spacchettato ho detto ma veramente cioè non ci volevo proprio credere ci sono proprio rimasta perché non mi aveva fatto nemmeno trasparire che lui volesse comprarlo un po' come è successo con il mio apple watch stessa identica cosa anche se era da mesi che indagava sul modello che mi piaceva tramite appunto un suo amico perché usando la scusa che l'amico si doveva comprare un un telefono un dai sto telefono un computer nuovo io mai sarei aspettata che poi alla fine il computer era per me e quindi personalmente avevo dato le migliori opinioni e ho detto ah sì no è bello il macbook pro quello di nuovo con la touch bar e infatti il mio come si dice il mio il mio computer ha anche la touch bar come potete vedere lo utilizzo per la parte appunto dei contenuti digitali che io creo io all'interno ho il programma di final cut e devo dire che è spaziale nel senso che io veramente lo carico perché creo dei file abbastanza pesanti ok però devo dire che questo telefono io non devo neanche collegare il telefono continuo a dire telefono rewind non devo neanche collegare il mio telefono al mio computer perché lo faccio tramite bluetooth e mi trasferisco tutti i dati lo fa abbastanza velocemente magari qualche file che è proprio pesante ci impiega un po' di più ma l'ho sempre fatto e ovviamente io lo utilizzo per le fatture per l'assicurazione insomma lo utilizzo un po' per lavoro e poi principalmente per youtube e instagram il modello ve lo scrivo perché onestamente non me lo ricordo dovrei andarlo a rivedere dentro fatto sta che è leggerissimo ed è in questo grigio siderale come potete vedere adesso ve l'ho fatto vedere così ve l'ho fatto anche vedere con la plastichina qua perché io tengo proprio la plastica anche sopra la taschiera perché è stato un set che mi sono comprata alla fine su amazon e anche tutti gli accessori che adesso vi andrò a mostrare ve li ovviamente linko dentro la vetrina di amazon allora in primis ho preso questi in realtà questo è stato l'acquisto ultimo che ho fatto appunto come accessorio del computer perché principalmente ne avevo preso un altro che dopo vi faccio vedere però con questo è vero il computer pesa un po' di più però è proprio protetto cioè anche se lo infilo nello zaino nella borsa così com'è senza niente è protetto mi è arrivato integro quindi non è arrivato rotto e con questo mi trovo davvero bene e adesso lo rimetto ok niente questo qui questa qui è la cover che voi potete vedere una volta inserita è semplice l'unica cosa è che bisogna stare attenti un po' agli angoli cioè di non pigiare proprio fortemente e niente l'ho preso nero perché insomma un po' diciamo richiamava questo grigio siderale che è bellissimo secondo me perché io ce l'avevo proprio grigio più chiaro il vecchio macbook pro un po' per cambiare e quindi fondamentalmente questo lo potete mettere in borsa diventa più pesante ovviamente rispetto a non averlo però vi protegge il computer ovviamente mi sono presa allora all'inizio io avevo questo qui questo qui è in lana cotta ma in realtà lo utilizzo proprio anche per mettere tipo dentro ci metto le fatture perché tra qua e Milano quando faccio avanti e indietro mi metto le cose perché è super capiente potete mettere vedete io ho varie robe dentro all'inizio utilizzavo solo questo però adesso utilizzo tutti e due cioè questo lo metto dentro qua volevo farvi vedere un ultimo accessorio che era compreso tutto questo ve lo metto nell'info box dentro la vetrina di Amazon anche questo è lana cotta qua dentro cosa ci tengo fondamentalmente anche il microfono ci va dentro vi giuro che ci va tutto tengo la batteria e il buco il buco termine molto tecnico va bene la batteria appunto del computer è diversa a questa a questo come si dice a questa porta lightning ovviamente e sono entrambi uguali insomma io avrei anche la prolunga Milano però l'ho lasciata a Milano non ho mai preso la briga di di portarmelo dietro e ho anche l'adattatore con il cavo questo qui il lightning e poi utilizzo il classico USB qua dentro metto aspettate qua ok qui all'interno anche questo l'ho preso su Amazon ci va addirittura la memory card della videocamera quando la uso poi ovviamente ho la mia come si dice il mio hard disk questo qui è un hard disk vecchissimo vecchissimo però qua dentro ci metto il video che registro perché anche quando esporto altrimenti questo computer ma come ogni macbook in generale come ogni computer esploderebbe però quando esporto i file cioè comunque i video dal mio programma di editing almeno si salvano qua non sono gadget che costano poco ok lo capisco benissimo fatto sta che comunque sia sono scelte cioè sono scelte ecco alla fine io principalmente l'acquisto che ho fatto personale sono state le cuffiette e il telefono ok le altre due cose mi sono state regalate come l'Apple c'è anche il computer e questo con questo non voglio indurvi a no dovete comprare solo Apple eccetera perché io penso che queste siano delle scelte molto ma molto molto personali e spero comunque di avervi dato un qualcosa di avervi dato uno spunto soprattutto se magari eravate indecisi a fare un acquisto piuttosto che un altro e nulla mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un like non dimenticate di iscrivervi al canale e sicuramente noi ci vediamo in un prossimo video cheers